Bene ragazzi, benvenuti qui sui miei Granos e oggi siamo tornate Tornate? Tornate Ovviamente noi oggi, come tutti i video di questo tipo, ci fingiamo donne Quindi siamo tornate nelle chat erotiche Esatto Donne romane Ok, ciao Banana23 Ciao, sono Fragola86 Quanto era figata la canzone Soccola di Livorno, ci sono ragazze e donne di Perugia disponibili Pensavo anni in realtà, ero un attimo illuso Attenzione, Paddy, sposato per incontri, ciao Ciao, ciao Cazzone duro 35 Ciao anni, ciao Calmi, calmi Allora, no, sentite i suoni voi Piano Piero Ciao Allora, tutti quelli che dico nociao li scartiamo Te li è credito tutta Ecco, quindi questo no Ciao, vuoi foto cazzo Che golosona Ciao golosona, ma che non ce leggi Allora no, adesso ciao Io il cazzo di 25 centri Eh, non basta Come? Cercavo Di più Di più Ciao Vorresti che ti chiamassi che che culo E poi guarda tirandoti forti i capelli per farti inarcare bene la schiena? Ah Sì, tutto molto bello Ma ce l'hai più Ma quanto lo hai lungo? Ahahahah Volevo fare come se fa Ahahahah Ti volevo chiedere come se fa quel verso? Come se mi scrive quel verso? Ahahahah E poi dove devo faccia Ahahahah E da quello io dove lo fa Come è il senso? A parte che non fanno così i porcini d'India Quelli sui porci E basta Ahahahah Crof, crof Sei sola? Ci sei? Ma ci sei? Sei da sola? Ahahahah Torniamo da questo Solo se me lo svuoti tu E dove vorresti svuotarlo? Nel fiestino Ahahahah Ho 38 anni Sono sposato quindi cerco e offro discrezione Che lavoro faresti scusa? Non lo so, tanto non ne lo dico perché è discrezione Cazzo duro Ahahahah Allora, sono al lavoro e ho voglia E di dove sei? Ti descrivi? Sparisci visente? Oh porco due, i placate Io scrivi per favore Calmo amore Perché io facciamo? No, no Dì i placate Sono di Roma Tu? Speriamo che abbia un lavoro Oh ma quanti ci stanno a scrivere? Sempre duro Ciao, vuoi mi schizzi? Sei un artista Sempre duro, beh, è bello Esco in zona Navigli Che ormai è la nostra zona Ah no Cioè esce mezzo a Milano là Calmo amore, sono a casa Sono di Roma Ah, sono io Terracina, conosci? Sì, come no Sono stata al mare Oh ma perché non mi da tempo di rispondere? Ti piace Terracina? Questo è un drogato Questa è un esempio di drogate Questo è un po' pippato Ciao Ciao Prima però Conosciamoci un po' qui Prima di darti il numero Che numero avrai poi? Lo ho mostrato In cam Su donne Che ti vinci di solito? Su donne Se hai notato a foto ti dipingo Mentre mi guardi Oddio che cosa schifosa Oh mio Dio Oh mio Dio Mi sta finita Mi da Vacci Con il tocco Dato psicologo Dedicato Però eh Qua ti baffi Dimmi lo tu sono curioso Ci sei? H12 Mamma mia Ti burtina adesso Anch'io di Roma Di dove? Ti burtina adesso Ti e quanti anni hai? Ci sei? Se ti faccio possiamo vedere Ti andrebbe Facciamo un mosaico Non ha senso Non lo so Ovviamente come reagisci a questa cosa Tu la conosci? La macrocina felia Più o meno Assomiglia un sacco a maccaroni Se conosci Sportivo ma con un fisico di pancetta E tu? Maccaroni Allora ragazzi Sex symbol Cosa cazzo sto scrivendo? Quindi facciamo Un chiaroscuro Ma che cosa cazzo Stai scrivendo? Non lo so Che cazzo Por di? Fiamo un chiaroscuro Perché in senso Io sono nera Ma che cazzo stai a dir? Allora Non so che inventare a me No Io direi che manca Un altro Boh Un altro pennello 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 Ma è stupido Oddio mio È stupido Ci vediamo all'euro Al parcheggio del pala euro E sali in macchina Vestiti comodi Va allora Quando stresti libera Ma puoi tardi mattina? Sì Posso Che giorno? Domani? Mattina? Tarda mattinata? 12 Quando potresti passare Corco 2 Non parla come lupi fuori Che è un metà Il pastidio Io tra 10-15 minuti Devo staccare Se ti lascio il mio numero E la mia mail Possiamo sentirci fuori Dai no Train Appena twittata Cos'è in panica Di bella moto Comunque Bella moto Eh Cos'è in panica Cazzo Per un nuovo penedictive Parco 2 Oddio Tocca farle così Ste cose Cioè è troppo bello Sei sicuro? Sicuro? Quanto cazzo Ti ho detto Che faccio Un Lavoro Che fanno In pochi Mi bastano 5 minuti Per Scoprire Qualunque Cosa E sono Il detective Di famose Di tua moglie Ora Ho le prove Che mi servivano Ci vediamo In Tribunale Allora Vogliete come risponde A chiuso A 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 Ragazzi Allora il video può finire qui è finito benissimo Oggi siamo a dirti una cifra Finita la vita di un uomo Dall'email che ci ha dato siamo riusciti a risalire al abbiamo trovato due pagine una pagina di un forum dove lui scriveva e c'era la sua data di nascita allora abbiamo fatto credere che sapevamo tutto di lui e si è impanicato e comunque niente ragazzi se questo video vi è piaciuto lasciamo 10.000 like e faremo un prossimo episodio e cercheremo di fare anche questa tecnica ragazzi è stato tipo la risposta più bella è stato ha chiuso la chat comunque niente dai ci becchiamo al prossimo video grazie e tutto bella ciao